Soltanto nell'ultimo decennio si comincia a parlare e diffondere quello che è il concetto della celiachia. Prima questo disturbo non era conosciuto e i suoi effetti venivano confusi per effetti di altre patologie. Che cosa è cambiato? Circa vent'anni fa la patologia già esistente, se vuoi per motivi di scarsa tecnologia diagnostica, non veniva riconosciuta facilmente. Oggi con le moderne tecnologie si riesce a fare quasi subito diagnosi di celiachia e quindi una pronta terapia che consiste nell'allontanare dalla dieta il glutine. Il glutine purtroppo oggi si trova ovunque, è entrato a far parte in tanti cicli produttivi delle catene alimentari, quindi non è facile per il soggetto celiaco trovare gli alimenti adatti. Che cosa vuol dire per un celiaco essere associati e quindi avere il sostegno di altri soggetti che vivono la stessa situazione? L'Associazione Italiana di Celiachia è di supporto al celiaco che appunto nella fase della diagnosi affronta questo problema. L'Associazione Italiana di Celiachia ha diversi progetti in tutto il territorio nazionale, in particolare quello di formare e informare i locali, quindi i ristoranti, i gelaterie, hotel, della ristorazione e quindi del poter fare la cucina senza glutine. E informazioni di tipo scientifico, ci sono infatti delle dietiste, dei professionisti che formano, si organizzano dei convegni e cose quant'altro. E poi l'Associazione Italiana di Celiachia è presente anche nelle scuole con il progetto in fuga dal glutine, quindi per educare gli insegnanti di ragazzi e ragazzini che possono avere appunto intolleranze al glutine e fornisce materiali utili come il prontuario o la guida dell'alimentazione fuori casa per aiutare il celiaco a gestire appunto la sua condizione. Una persona che scopre di essere celiaco a primo impatto ovviamente deve cambiare il suo stile di vita, le sue abitudini, il modo di mangiare, come cucinare, un po' tutto. Per cui ovviamente così a primo impatto è abbastanza traumatico. IC fornisce materiale divulgativo, non solo cartaceo ma online, su app, quindi nel momento in cui ti viene, sei un neodiagnosticato, hai subito modo di poter avere qualcuno al fianco. Di fatti il mio impegno in IC vuole essere questo, poter essere un punto di riferimento per quanti sono in questa condizione e si sentono spauriti, perché all'inizio effettivamente crea ansia, difficoltà, poi se si ha contatto con un bimbo questa cosa diventa ancora più complicata.